grazie buongiorno a tutti allora il tema di questo incontro è questo e diciamo così l'equivoco che è tuttora diffuso nella cultura popolare circa la vera natura del libro di marco polo mi spiego anche per via di una visione romantica del medioevo come epoca intrisa di superstizioni e di leggende si è creato si è creata una spaccatura fra quello che gli specialisti pensano e sanno di marco polo e del suo libro e l'immagine che invece se ne ha nell'immaginario collettivo perché negli studi degli specialisti è assodato da tempo che il viaggio di marco polo è stato un viaggio assolutamente reale che il suo libro è una descrizione in gran parte autentica e verificabile di quello che aveva visto e invece nell'immaginario collettivo lo sappiamo tutti il libro di marco è spesso associato a una categoria quella dei viaggi immaginari della letteratura fantastica ecco ora è una categoria che è diffusa nel medioevo quella dei viaggi immaginari e dei racconti fiabeschi che non hanno nessun riscontro nella realtà ma il libro di marco non rientra in questa categoria le intenzioni dell'autore erano completamente diverse a cominciare dal titolo che nelle intenzioni di marco non era affatto il milione marco il suo libro lo aveva intitolato modestamente descrizione del mondo però per l'appunto descrizione come vai si chiama il milione poi che invece un titolo così vago ed evocativo anche questa è una storia curiosa perché sembra proprio che milione fosse semplicemente il soprannome o cognome di un ramo della famiglia polo famiglia polo era una ricca famiglia di mercanti veneziani molto ramificata e il ramo a cui apparteneva marco aveva un suo soprannome particolare di questo abbiamo anche prove documentarie c'è un documento un atto notarile del 1305 è un atto notarile è la cosa diciamo così proprio più più banale terra terra che si possa immaginare e in questo atto notarile marco polo che è uno dei presenti è chiamato in latino marcus paulo milione e dunque un soprannome ma naturalmente i lettori del libro di marco che erano sparsi in tutta italia in tutta europa è probabile che si interessassero molto poco dei soprannomi delle famiglie veneziane e invece questa parola milione per loro doveva evocare come per noi no un orizzonte in qualche modo fiabesco ora in realtà appunto la descrizione del mondo per usare il titolo che marco aveva dato al suo libro è un resoconto estremamente concreto di un viaggio ma poi in realtà di un soggiorno di un prolungatissimo soggiorno in estremo oriente e il suo scopo è di offrire il suo scopo principale perché anche questo va detto è un libro composito è un libro scritto a quattro mani lo sappiamo dettato da marco ma scritto da rustichello che era invece un autore di romanzi cavallereschi e in certe parti del milione si vede questa mano del romanziere senza dubbio è anche un libro che vuole divertire sì certamente e tante cose però è innanzitutto un libro che vuole offrire al pubblico europeo dell'epoca e in particolare ai mercanti e agli uomini di potere una serie di informazioni concrete utilizzabili anche a fini pratici ecco certo marco poi include anche nel suo racconto episodi fiabeschi mitici cose che gli hanno raccontato e che lui include perché il suo pubblico se lo aspetta parla dei re magi del vecchio della montagna del prete gianni della tomba di san tommaso apostolo in india ma il punto è che mentre noi lettori di oggi quando incontriamo una dimensione miracolosa o magica abbiamo subito la sensazione che non siamo più in un piano realistico e per loro non era così per loro era ovvio che il mondo reale ha anche una dimensione magica che il miracolo esiste e che lo incontri nella vita vera inoltre c'è un'altra cosa da dire quando marco racconta queste leggende che il suo pubblico già aveva sentito in occidente marco regolarmente racconta delle versioni che ha sentito sul posto e che sono diverse da quelle che correvano in occidente e quindi diciamo anche quella è informazione anche queste leggende servono a far capire l'identità dei luoghi che lui sta descrivendo se uno legge il prologo del libro di marco si accorge quasi subito che l'intenzione dichiarata è appunto quella di presentare un resoconto autentico di fatti concreti dico quasi subito perché in realtà la prima frase suona molto invece come quella di un cantastorie o di un imbonitore che si rivolge al suo pubblico e lì si sente la mano di rustichello perché come comincia il libro di marco comincia così signori imperatori e re duchi e marchesi conti cavalieri e borghesi e ogni gente che volete conoscere le diverse razze di uomini e le diversità delle diverse regioni del mondo prendete questo libro e fatelo leggere è come la fascetta sui nostri libri no ecco un libro da un milione di come comunque allora certo che l'attacco è quello dei romanzi cavallereschi signori imperatori però poi dice non dice che volete divertirvi dice voi che volete conoscere ed ha per scontato ecco cominciare rivolgendosi a imperatori re e principi non è solo un luogo comune appunto da cantastorie no no c'è la consapevolezza che sono innanzitutto gli uomini di potere che hanno bisogno di informazioni sull'altra metà del mondo e questa consapevolezza marco polo ce l'ha perché e questo mi sembra un punto molto importante per capire anche il fatto stesso che lui è arrivato in oggi tornato in occidente si è messo a raccontare perché quando i polo erano arrivati in oriente alla corte del gran canna come credete che avessero fatto per far fortuna ci erano messi a raccontare ci erano messi a raccontare al gran canna tutto quello che sapevano e che lui non sapeva sull'altra metà del mondo sull'occidente questo marco lo dice molto chiaramente è dice noi ci siamo conquistati il favore del gran canna perché lui ci aveva chiesto molte cose degli imperatori come governano il loro stato come fanno la guerra e poi ci ha chiesto del papa della chiesa di roma e di tutte le costumanze di noi latini e noi gliel'abbiamo raccontato dice marco e cito e gli piacque moltissimo e quindi è chiaro che tornati in occidente hanno di nuovo un capitale di cose da raccontare che nessuno sa e che tutti sono interessati a sapere marco polo sempre nel prologo ci tiene a garantire quella che noi oggi chiameremmo la scientificità del suo libro di più ci tiene a garantire che questo è anche un libro di storia e questo vale la pena di sottolinearlo perché come dire l'orizzonte geografico del libro di marco ce l'abbiamo presente tutti ma questo è anche un libro di storia e pieno di digressioni neanche digressioni fanno parte dell'impianto marco e rustichello raccontano come è stato costruito l'impero di gengis khan e come gli altri suoi successori lo hanno allargato e come ci sono state guerre civili tentativi di colpo di stato guerre fra i khan e potenziali usurpatori ora tutta questa parte il lettore di oggi tende a saltarla a pie pari perché rustichello che era un autore di romanzi cavallereschi abbastanza scadente devo dire ecco tutte queste battaglie le racconta tutte allo stesso modo cioè ci sono proprio le stesse frasi e quanti colpi di spada vennero scambiati e quante teste vennero tagliate e come posso dirvi quante vergini rimasero orfane quante mogli vedove ecco sono tutte uguali in apparenza queste battaglie però poi di ognuna è detto molto chiaramente perché c'è stata quella battaglia fra chi e chi ha vinto e chi è diventato gran khan alla fine di quella battaglia e in molti casi c'è anche la data marco tende a datare precisamente nell'anno 1288 e così via quindi sfrondata dallo stile di rustichello rimane un'opera che è anche un manuale di storia recente dell'impero del gran khan poi certo nel raccontare i fatti storici anche marco ogni tanto si trova sotto mano dei libri che sono di uso corrente in occidente e che sono in realtà più romanzi che libri di storia ai nostri occhi il romanzo di alessandro per esempio che è il romanzo di alessandro magno e delle sue campagne in oriente di cui il ricordo era vivissimo nel medioevo ma naturalmente trasfigurato in modo leggendario quando marco ha modo nei suoi viaggi di trovare un riscontro a quello che si racconta nel romanzo di alessandro magno va a vedere se le informazioni sono giuste oppure no c'è un passo che a me ha colpito molto ed è quando nel caucaso gli dicono che lì vicino ci sono le famose porte di ferro le porte di ferro erano uno sbarramento leggendario che alessandro magno aveva costruito per tenere lontani i barbari dell'est e marco polo dice il posto è questo è questo il luogo in cui il libro di alessandro racconta come racchiuse i tartari fra due montagne perché nell'immaginario delle occidentali di quell'epoca per i quali la grande minaccia che viene da oriente erano appunto i mongoli i tartari loro davano per scontato che fosse contro i tartari che alessandro aveva costruito questo sbarramento ma marco precisa subito e non è vero che fossero i tartari ma erano un popolo chiamato cumani perché i tartari non c'erano a quel tempo in altre parole lui ha ragionato gli hanno raccontato la storia dei tartari i tartari prima della nostra epoca non esistevano e c'erano invece altri popoli è verissimo che esistevano in precedenza i cumani e lui da per scontato quindi lui precisa questa cosa da noi si dice che al tempo di alessandro c'erano già i tartari non è vero non c'erano ancora e allo stesso modo marco coglie sempre l'occasione quando può correggere una leggenda quando può smentire una leggenda a cui invece a casa nostra credevano tutti vi faccio vi faccio qualche esempio a java ha visto l'unicorno che è il rinoceronte naturalmente ma lui viene naturale pensare ma è quello l'unicorno da noi c'è questa leggenda di un animale miracoloso con un lungo corno e da noi si raccontano cose fantastiche di questo animale che si fa prendere dalle pulzelle per esempio cioè se vuoi catturare l'unicorno l'unicorno è inafferrabile ma se ti porti dietro una fanciulla vergine allora l'unicorno immediatamente si sottomette ora voi capite alessandro alessandro a dio marco marco l'ha visto l'unicorno pensate che legge che cose favolose potrebbe raccontare e invece invece cos'è che dice dell'unicorno è una bruttissima bestia da vedere non sono mica come noi qui diciamo e come li descriviamo che dicono che si lascia prendere dalle pulzelle ma vi dico che è tutto il contrario di quello che diciamo noi ancora in india nel malabar gli parlano non l'ha visto lui ma gli parlano dell'uccello grifone che è un'altra bestia fantastica dell'immaginario collettivo occidentale fin dal tempo degli antichi romani mezzo uccello e mezzo leone e i grifoni lui appunto glieli hanno descritti e sappiate che non sono mica fatti come la nostra gente qui da noi crede e come ce li raffiguriamo mezzo uccello e mezzo leone sono degli uccelli poi per carità gli dicono che sono aquile grandissime però non sono quegli animali fantastici che si dice da noi e poi c'è la salamandra la salamandra il piccolo rettile nero e giallo che conosciamo tutti fin dall'antichità si credeva che la salamandra potesse vivere nel fuoco questa è la tipica leggenda che noi chiameremmo superstizione medievale e invece tanto più in quanto io di mestiere studio il medioevo ci tengo a precisare nel medioevo ci credevano perché lo leggevano nei libri degli antichi romani sono gli antichi romani che credevano a tutto e plinio il più grande scienziato dell'antichità che nella sua storia naturale racconta tutte queste fanfaluche fra cui che la salamandra vive nel fuoco per l'appunto e i dotti del medioevo poveretti ci credevano a un certo punto visto che lo dice plinio ecco ora quello che risulta dal libro di marco è che nel medioevo arrivavano in europa dei tessuti dall'oriente dei tessuti speciali che non bruciavano nel fuoco e la gente facendo due più due credeva che fosse la pelle della salamandra e quindi li chiamavano le salamandre ma marco ha conosciuto uno che fabbricava quei tessuti dice un amico mio un turco che si chiama zulfi car e lui mi ha spiegato tutto e dalla spiegazione di marco si capisce di cos'erano fatti questi tessuti era amianto erano in fibra di amianto perché il turco zulfi car industriale dell'ambianto ha spiegato a marco che è un materiale che si scava sotto terra e poi si pesta e poi si fila come se fosse lana e si producono questi tessuti e quindi non è la salamandra dice marco cito perché nessuna bestia può vivere nel fuoco e si tratta invece di questo materiale e tutte le altre cose che se ne dicono sono menzogne e favole me ne cito se permettete ancora una ed è la storia di quelli quelli che poi dice marco quelli che portano i piccoli uomini dall'india ed è una grande bugia è un grande inganno che cos'è la storia dei piccoli uomini si capisce dal racconto di marco che qui da noi qui da noi laggiù da noi in occidente nelle fiere c'erano i saltimbanchi che mostravano al pubblico a pagamento i piccoli uomini mummificati imbalsamati si intende i piccoli uomini che vivono in india e marco racconta è tutta una truffa non sono uomini sono scimmie sono io l'ho visto sono scimmie che in faccia assomigliano abbastanza all'uomo sono gli oranghi del borneo evidentemente e questi le catturano poi le pelano gli lasciano solo i peli sul mento per simulare la nostra barba e poi le trattano gli stirano le membra per renderle simili a quelle umane poi vengono imbalsamati e poi li portano in giro da noi ed è una truffa perché né in india né in altri posti più selvaggi non si sono mai visti uomini così piccoli quindi come vedete marco non è mai così contento come quando può riscontrare che una cosa a cui da noi si crede è una leggenda o peggio ancora una truffa a questo punto come dire è triste pensare che invece poi i posteri tante notizie date da marco a lungo hanno creduto che fossero appunto invenzioni sue o di quelli che gliele avevano raccontate cose inverosimili a cui non si può credere e invece la ricerca recente ha permesso di confermare precisamente una serie di notizie date da marco che a prima vista sembravano così lambiccate da essere inverosimili e anche qui vi faccio qualche esempio parlo della ricerca recente perché in realtà voi sapete che ancora negli anni 90 del secolo scorso sono usciti libri che sostenevano che marco polo si era inventato tutto e che non era mai stato in cina ora per fortuna questi libri hanno prodotto una nuova generazione di ricerche che si sono poste come obiettivo quello di andare a cercare nelle fonti cinesi le conferme delle notizie date da marco in modo più sistematico e più approfondito di quello che si faceva in precedenza e allora vi faccio appunto alcuni esempi marco racconta com'è che nell'impero del gran can si puniscono i ladri quando un uomo dice quando un uomo ha rubato qualche piccola cosa per cui non merita di essere condannato a morte gli danno sette bastonate o diciassette o ventisette o trentasette o quarantasette e in questo modo continuano fino a centosette aumentando ogni volta di dieci a seconda della gravità di quello che ha rubato e parecchi muoiono di questa bastonatura ora questa è la tipica notizia di fronte a cui per molto tempo i commentatori si dicevano ma cosa aveva bevuto quando ha scritto questa cosa come gli può venire in mente un sistema così bislacco e invece un libro recente quello del fogel uno di quelli che hanno contribuito appunto a mettere chiarezza il libro del fogel ha un titolo chiarissimo marco polo was in china il fogel è andato a cercare nei documenti amministrativi nei regolamenti e nelle leggi dell'impero del gran can e ha trovato un regolamento del 1312 che prescrive le punizioni per chi falsifica moneta falsa per chi produce moneta falsa per il falsario centosette bastonate per chi spaccia moneta falsa 97 bastonate un altro regolamento degli stessi anni prescrive le pene per i soldati colpevoli di negligenza nel servizio per il soldato 27 bastonate per l'ufficiale 57 bastonate e quindi la notizia sulle punizioni che vanno sempre aumentando in sette in sette in sette è perfettamente reale sempre a proposito di numeri marco è un mercante i numeri gli interessano le cifre le percentuali perfino le percentuali lo vedremo gli interessano in questo caso invece sta parlando di religione parla di quelli che lui chiama gli idolatri che poi sono i buddisti e dice che gli idolatri i buddisti hanno 84 idoli e che ognuno di questi 84 idoli ha il suo nome ha un suo potere particolare viene invocato in certe circostanze allora di nuovo per molto tempo da dove tira fuori questo numero e invece nella letteratura buddista tantrica c'è il tema degli 84 i cosiddetti grandi adepti i mahasida cioè uomini e donne che attraverso la pratica dello yoga avevano acquisito poteri speciali e sono esattamente 84 e c'erano templi in cui c'erano gli 84 altari di questi 84 grandi spiriti ognuno col suo nome e ognuno con certe sue caratteristiche e un suo insegnamento particolare quindi di nuovo marco non che abbia capito tutte le sottigliezze dell'insegnamento buddista chiaramente però sta riferendo qualcosa di molto preciso ancora lasciando stare i numeri in questo caso un'altra notizia di quelle che per tanto tempo sono state considerate inverosimili lungo il viaggio di ritorno marco è sulle coste dell'arabia vicino a aden nel porto che lui chiama escher e che si chiama in effetti al shir in questo porto di al shir dice marco il pesce è così abbondante che le loro bestie i montoni i buoi i cammelli i cavalli si nutrono di pesce e dice marco è la loro biada perché in quel paese non c'è erba ma è il posto più secco del mondo ora io vedo dalle vostre facce che l'idea dei cammelli e dei cavalli che mangiano il pesce è la tipica cosa che uno diceva e invece che precisamente in quel luogo gli abitanti dessero da mangiare pesce al loro bestiame lo riferiscono anche i viaggiatori arabi del medioevo lo riferisce idrisi lo riferisce ibn battuta ma non solo lo riferiscono gli esploratori inglesi dell'ottocento e quindi di nuovo la cosa che in apparenza è la più inverosimile marco non se l'era inventata ora in compenso restando sul tema del pesce sul tema alimentare uno dei motivi per cui marco è stato criticato tanto da suscitare il sospetto che non fosse davvero mai stato da queste parti è proprio la sua indifferenza per l'alimentazione e per le diverse pratiche alimentari cioè per cose che oggi invece ci colpiscono molto no ecco marco è vero che marco non si interessa di questo non descrive nessun piatto nessun cibo se non il comis mongolo la bevanda di latte fermentato dei mongoli quella la descrive per il resto non descrive nessun cibo non parla mai del fatto di mangiare con le bacchette che a qualche ingenuo occidentale di oggi è sembrata così strano che non l'abbia notato ecco in realtà si può riflettere sul fatto che oggi oggi che in occidente mangiamo con la forchetta allora ci colpisce di più l'uso delle bacchette come proprio un modo totalmente diverso di prendere il cibo ma al tempo di marco la forchetta non esisteva al tempo di marco si prendeva il cibo con le dita o aiutandosi in vari modi tra ditta cucchiaio ed è sicuro che in un mondo con quel tipo di abitudini le bacchette dovevano sembrare meno sorprendenti meno opposte diciamo al nostro modo di fare dopo di che però non è mica vero che marco polo non si interessa all'alimentazione perché quando trova qualcosa che per il suo pubblico europeo è davvero una notizia sorprendente allora certo che ci si ferma e qual è la cosa più sorprendente di tutte per un occidentale che i cinesi non hanno il pane il fatto che non ci sia il pane è una cosa da cui non si riesce a rinunciare a non meravigliarsi enormemente ecco e marco lo dice fanno poco frumento da loro viene bene il riso il panico il miglio e quelli danno raccolti abbondantissimi ma non ci fanno il pane li mangiano cotti come la carne cotti nel latte dice ecco e frumento ne hanno un po e di frumento però non cresce bene e comunque anche con quel frumento non ci fanno il pane ci fanno la pasta le lasagne ma il pane no e poi sempre parlando di queste cose marco a un certo punto racconta una di quelle cose che lui introduce proprio con la formula adesso vi dico un'altra cosa che vi farà meravigliare a sumatra ha trovato degli alberi che dentro sono pieni di farina ed è naturalmente la palma del sagù è un prodotto che oggi sta diventando molto di moda anche da noi il sagù è quello che invece in passato gli esploratori occidentali chiamavano proprio l'albero del pane salvo che dice marco hanno questi alberi piedi di farina ma non ci fanno il pane ci fanno molte vivande di pasta che sono molto buone da mangiare è una delle poche volte in cui fa un commento comunque non le descrive sono buone io le ho mangiate ma non fanno il pane ora resto su questo per raccontarvi un dettaglio che però è indicativo di quanto questa cosa dell'assenza del pane fosse inverosibile per il pubblico occidentale c'è una delle traduzioni dell'opera di marco apro una piccola parentesi voi sapete che l'opera di marco noi non abbiamo un manoscritto originale di suo pugno abbiamo molte versioni ma sono quasi tutte traduzioni in varie lingue che hanno spesso aggiunte modifiche c'è una traduzione in italiano che è malfamata perché chi l'ha fatta ha aggiunto o ha cambiato molte cose di testa sua questo traduttore del libro di marco quando arriva a parlare dell'albero del pane o meglio dell'albero della farina e marco dice con questa farina non ci fanno il pane il traduttore che è di area veneta traduce in un italiano di area veneta non riesce a crederci a questa cosa che non fanno il pane crede che ci sia un errore nel testo e lo corregge per cui nella sua versione gli abitanti impasta con l'acqua e ne fa pane e altri suoi manzari come noi femmo della farina de formento e il pane di quella farina è come pane di orzo e di quello sapore è tutto inventato da un traduttore per cui l'assenza del pane è inco cioè non posso raccontare al mio pubblico una balla come questa ecco bisogna correggere gli sbagli di marco e poi c'è un'altra c'è un'altra notazione di marco che magari rischia di sfuggire perché lui la butta lì così e bisogna conoscere l'antropologia del nostro medioevo per capire come mai lui è così colpito marco è quella che lui chiama king sai e che è naturalmente hangzhou che per lui è senz'altro la più grande più ricca città che ha visitato abbondantissima c'è di tutto c'è di tutto al mercato carne ogni tipo di carni e qui c'è già una prima notazione non è quella che vi volevo dire ma questa viene prima ogni tipo di carni e i ricchi mangiano vitello mangiano montone ma i poveri dice mangiano ogni sorta di carni immonde dove devo dire si riconosce il pregiudizio occidentale che esiste ancora oggi è in un certo senso verso una cultura alimentare come quella cinese dove si mangiano animali di tutti i generi un raggio più ampio diciamo di commestibilità rispetto ai pregiudizi di noi occidentali ma non è questo il fatto il fatto è che oltre in questo mercato dove si trova carne di tutti i tipi c'è anche enorme abbondanza di pesce e il pesce viene messo sul mercato tutti i giorni e a vedere quanto ce n'è non si penserebbe mai che riescano a venderlo e invece in poche ore lo vendono tutto questo pesce perché mangiano e pesce e carne in un medesimo convito cioè nello stesso pasto hanno piatti di pesce e piatti di carne e questa è un'altra cosa che per il pubblico europeo di allora era del tutto inconcepibile perché loro per loro era così forte l'influenza del calendario religioso dei giorni di grasso e dei giorni di magro dei giorni in cui si può mangiare carne e dei giorni in cui si deve mangiare pesce per penitenza poi intendiamoci lo sapevano anche loro che il pesce può essere buonissimo è lo storione era riservato ai principi e ai vescovi e tuttavia nella testa di tutti mangiare pesce e associato ai giorni di magro e alla penitenza per cui nei giorni di grasso non metti il pesce in tavola inconcepibile o si mangia carne o si mangia pesce naturalmente allora questa cosa era molto forte non è sparita del tutto neanche oggi è nel senso che noi troviamo naturalissimo che un ristorante proponga un menù di terra e un menù di mare però oggi non è forse più così rigida allora lo era e il fatto che invece i cinesi non hanno questo tabù ecco è una notizia sorprendente evadata e ancora sempre per la serie cose che stupiscono un europeo del medioevo in india quando bevono ognuno beve dal suo boccale e non farebbe mai bere un altro nel suo boccale e se arriva un forestiero chiede da bere se ha il suo recipiente gli danno da bere ma se non ce l'ha gli versano dice marco la bevanda o il vino nelle mani e lui beve dalle mani ora al tempo di marco gli occidentali non avevano minimamente l'idea che quando si mangia o si beve ognuno deve avere il suo piatto e il suo bicchiere era un modo di mangiare molto più conviviale e per quanto riguarda il bere era possibile che l'intera tavolata usasse lo stesso alla stessa coppa così come era possibile che i due commensali seduti vicini condividessero la coppa così come condividevano il piatto o il tagliere la fetta di pane su cui appoggiare i bocconi presi con le dita ed era una cosa che in origine nasceva sicuramente dalla povertà dalla scarsità di suppellettili ma che in realtà era diventata un modo di vivere mangiare è un atto conviviale e si condivide tutto per noi oggi che gli indiani non lasciassero bere gli altri nel loro bicchiere ci stupisce molto meno e invece al tempo di Marco è un'alterità antropologica che lui immediatamente percepisce e segnala e quindi e quindi dobbiamo capire cosa intende Marco quando promette al lettore di presentargli meraviglie le meraviglie non sono i mostri l'uccello grifone la salamandra che vive nel fuoco neanche per sogno le meraviglie sono delle cose che esistono davvero e che noi non lo sapevamo e che ci sorprendono proprio perché esistono davvero e allo stesso modo la geografia del libro di Marco è una geografia che non ha nessun interesse a stupire il lettore parlandogli dei giganteschi edifici sì i palazzi del Gran Can vengono descritti perché lì bisogna far capire quello che è il potere del Gran Can però quello che interessa di più a Marco sono le distanze geografiche perché bisogna sapere quanto ci vuole da una città all'altra quello che interessa Marco è la produzione che cosa si produce in ogni luogo quello che gli interessa è in certi casi si trova alloggio attenzione dice da questa città a quell'altra sono sette giorni di viaggio ma ci sono solo tre posti dove si trova un albergo ecco quindi sappiate fare i vostri conti e di meraviglioso cosa ha trovato dal punto di vista geografico di meraviglioso ha trovato il fatto che lui si è spinto molto a sud e navigando verso java ha passato l'equatore e una volta passato l'equatore si è accorto di questa cosa inconcepibile non si vede più la stella polare e lo dice immediatamente ed è una delle cose che dice vi dico una cosa che mi sembrerà meravigliosa non ci vorrete credere ma è la verità ora anche qui dovete capire il suo pubblico è fatto in parte di mercanti abituati a navigare nel mediterraneo e per i quali se c'è una cosa solida e sicura nel mondo è che in cielo c'è la stella polare e che la stella polare è la cosa più importante che ti permette sempre di orientarti e quindi attenzione avviso ai naviganti attenzione perché sappiate che se si va molto a sud la stella polare sparisce e come dire io adesso vi risparmio la citazione ma tenete conto che ci sono pezzi interi del libro di ma mentre ci sono pezzi appunto romanzeschi pieni di battaglie di cavalieri di teste tagliate ci sono delle parti dove se uno si aspetta di divertirsi ti cascano le braccia e dove sei tentato di saltare a pie pari gran parte della descrizione della cina consiste in una serie di schede una per ogni città dove sembra proprio che sia uno che riempie le schede ci sono le varie voci religione sono idolatri politica appartengono al gran can moneta hanno la moneta di carta produzione producono trappi di seta e poi dice e non c'è nient'altro di interessante passiamo alla prossima città e va avanti così ora queste non sono informazioni appunto date a un pubblico che vuole divertirsi sono informazioni per uno che ci deve andare e che deve fare affari da quelle parti e allora e allora proviamo a accennare ai momenti in cui marco da proprio le informazioni specifiche che possono interessare ai mercanti quando è che marco parla di prezzi per esempio non ne parla spesso è di moneta si descrive dettagliatamente la moneta di carta del gran can devo dire senza stupirsi affatto è in occidente a quell'epoca la moneta di carta era completamente inesistente e rimarrà inesistente ancora per secoli marco la descrive con grande soddisfazione diciamo con un briciolo di ironia semplicemente perché dice in pratica il gran can è un grande alchimista ha scoperto il modo di trasformare la carta in oro e quindi fanno tutti questi biglietti di carta pieni di timbri e di firme di funzionari e ognuno ha il suo valore ed ha i valori dei vari tagli dal mezzo denaro tornese la monetina la poco co fino al biglietto che vale 10 bisanti d'oro 10.000 euro ecco ci sono tutti i tagli e se uno ha della carta moneta in mano che si è consumata non c'è problema si va alla zecca e te la cambiano in biglietti nuovi ma trattengono il 3 per cento e questo mi sembra anche ovvio dove notate la notizia è che marco conosce le percentuali certo la matematica sta rinascendo in occidente in quel momento ma tenete conto che loro usano ancora i numeri romani con cui fare delle operazioni matematiche è una cosa complicatissima ma marco è un mercante e conosce vedremo anche un altro esempio conosce le percentuali e sui prezzi sui prezzi sui prezzi marco ne parla quando sono molto convenienti e fa i raffronti in base al potere d'acquisto della moneta veneziana del grosso d'argento veneziano che è la monetina piccola corrente e allora in ogni occasione nei luoghi in cui c'è da segnalare che lì una certa merce è molto conveniente nella città di su jo per un veneziano grosso vi danno ben 40 libbre di zenzero fresco zenzero le spezie commercio enormemente redditizio attino giù che non è stata ben identificata ma è un posto dove si fabbrica la porcellana e la porcellana è una roba bellissima dice marco andate a comprarla in quel posto lì perché lì potete avere per un veneziano grosso tre scodelle così belle che nessuno saprebbe descriverle e poi sono segnalati i cambi vantaggiosi in qualche caso c'è una provincia la provincia di zardandan che è più o meno fra lo yunnan e la birmania in questa provincia dice marco l'argento è molto scarso perché non ci sono miniere d'argento nella zona lì l'oro e l'argento si cambiano 1 a 5 che è un cambio svalorditivo perché l'argento allora come oggi con l'oro naviga sull'1 a 10 1 a 15 lì 1 a 5 e quindi i mercanti che vanno lì con l'argento lo cambiano con dei profitti straordinari e ancora avviandomi a chiudere ma un'ultima notazione sul marco mercante tenete conto che sugli affari di marco e della sua famiglia gli archivi di venezia ci offrono parecchie informazioni e tra cui il testamento dello zio che è esposto nella grande mostra su marco polo alla shanghai library ecco questi documenti ci fanno vedere una famiglia di mercanti nel concreto dei loro affari marco quando ci parla del porto di zaitun il più importante porto dell'impero del gran can che poi è quangzhou dice lì c'è tutto arriva tutto il traffico delle navi provenienti dall'india e i profitti sono così pazzeschi che i mercanti possono permettersi di pagare il nolo delle navi a delle percentuali folli se la nave è carica di pepe il noleggio costa il 44 per cento per il legno di sandalo il noleggio costa il 40 per cento dire queste cose significa dire ai mercanti ma se i colleghi che operano lì possono permettersi di pagare dei noleggi così alti vuol dire che i profitti sono pazzeschi e allora detto tutto questo marco polo già in vita è diventato famoso come il grande esperto dell'oriente come il grande esperto dell'oriente a cui ci si rivolgeva anche lui è coinvolto personalmente nella traduzione del suo libro in varie lingue noi abbiamo una traduzione in francese il libro di marco è stato scritto da rustichello in quel finto francese che si scriveva in italia nel 200 era molto di moda scrivere in francese in italia nel 200 ma era un francese molto italianizzato no invece noi abbiamo una traduzione in francese corretto con un'annotazione di un signore un cavaliere francese che dice io ho fatto fare questa traduzione del libro del signor marco polo che ha portato mio papà da venezia perché mio papà era ambasciatore del re di francia a venezia e ha incontrato il signor marco polo e ha saputo del suo libro e gli ha chiesto di averne una copia e il signor marco polo gli ha dato volentieri una copia dice questo signore perché aveva piacere che quello che aveva visto fosse conosciuto da tutto il mondo e mio papà ha portato questo libro ma tutti lo vogliono e allora io ho fatto fare questa traduzione in francese a venezia viene fatta ancora vivente marco polo una traduzione in latino ovviamente almeno in latino lo possono leggere tutti in tutto il mondo e viene fatta dai domenicani del convento di san giovanni e paolo con i quali marco polo era in relazione personale abbiamo dei documenti su questo e in questa traduzione c'è una serie di aggiunte che a questo punto pensiamo che siano di mano dello stesso marco polo ma la prova più straordinaria della considerazione in cui era tenuto marco polo dai suoi contemporanei come testimone scientifico di quello che c'è dall'altra parte del mondo è il suo incontro con un grande scienziato della sua epoca che si chiamava pietro d'abano pietro d'abano era un italiano filosofo medico astrologo traduttore dal greco e dall'arabo professore a parigi alla sorbona e poi a padova ora pietro d'abano in un suo libro affronta una questione filosofica che fin dall'antichità era stata discussa in modo teorico e cioè è possibile la vita a sud dell'equatore o fa così caldo che la vita lì è impossibile e pietro d'abano dice sì sì è possibile è possibile c'è la vita umana sotto l'equatore e me l'ha raccontato marco polo dice il più grande viaggiatore e il più impegnato esploratore dei nostri tempi marco polo dice pietro mi ha proprio spiegato che lui c'è stato sotto l'equatore e che lì non si vede più la stella polare e ha incontrato isole abitate da uomini e bestie quindi marco polo è l'autorità che gli scienziati del suo tempo questo mi indica che devo finire ma in due minuti avrò finito e l'autorità che gli scienziati del suo tempo citano per verificare le cose ma del resto ancora cristoforo colombo quando torna dalle bahamas e invece è convinto di essere stato in giappone e deve dimostrare che è stato davvero in giappone una delle cose che fa marco polo che fa cristoforo colombo una delle cose che fa cristoforo colombo e che si compra il libro di marco polo lo compra dopo essere tornato perché noi ce l'abbiamo quel libro con le annotazioni di pugno di colombo ed è un'edizione stampata ad anversa nel 1495 e colombo va a cercare nel libro di marco polo la prova che lui è stato davvero in giappone quindi per gli per finire per gli addetti ai lavori il libro di marco è sempre stato fin dall'inizio un testo scientifico però però va detto che molto presto è nata l'altra lettura che invece vede nel libro di marco un qualche cosa di favoloso di fantastico noi abbiamo una copia un manoscritto della versione toscana del milione quindi fatta da un signore un fiorentino nel 1392 questo signore faceva il podestà di firenze in un paesino di campagna si annoiava per passare il tempo trascrive il milione e annota questo libro contiene cose incredibili più che miracoli è difficile prestar fede ma ancora alla metà del cinquecento giambattista ramusio che pubblica la sua grande collezione di opere di viaggio e include l'opera di marco polo il ramusio scrive addirittura siamo a metà del cinquecento che il libro di marco è stato per molte decine d'anni riputato favola e che i nomi delle città e province fossero tutte finzioni e immaginazioni senza fondamento alcuno e per dir meglio sogni insomma non c'è da stupirsi se mentre gli specialisti sanno che il libro di marco è una descrizione reale in gran parte di quello che lui ha visto invece nell'immaginario collettivo nel mondo della letteratura d'evasione chissà forse anche di quella per ragazzi nel mondo delle serie televisive di hollywood invece il nome di marco polo evoca un orizzonte fantastico fiabesco perché il destino del libro di marco è stato quello fin dall'inizio grazie 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 grazie